Expo 2015, Confartigianato pronta a mostrare al mondo il meglio del made in Italy. Confartigianato chiede che lo stabilimento di produzione torni sulle etichette dei prodotti alimentari. Il Ministero del Lavoro apre al confronto sul welfare per le imprenditrici, le nuove regole europee per l'importazione di legname. Buongiorno e bentornati all'appuntamento settimanale con il Tg di Confartigianato. Le imprese artigiane saranno protagoniste di Expo 2015, con sei mesi di iniziative organizzate da Confartigianato. Cuore della Kermesse, l'Italian Makers Village, presentato ufficialmente il 21 gennaio a Milano. Vediamo di cosa si tratta nel servizio di Lorenza Manessi. L'appuntamento è per il 30 aprile a Milano, in via Tortona 32, nel cuore creativo del capoluogo Lombardo. Sarà il momento del debutto di Italian Makers Village, uno spazio di 1800 metri quadri dove per sei mesi milioni di persone di tutto il mondo potranno ammirare, gustare, toccare e acquistare le eccellenze dell'artigianato italiano. Un'iniziativa unica nel suo genere, voluta da Confartigianato per segnare la presenza a Expo 2015 delle imprese che fanno grande il Made in Italy. La presentazione ufficiale di Italian Makers Village, il foriexpo delle eccellenze artigiane, è avvenuta a Milano il 21 gennaio, ad una follata conferenza stampa organizzata nella sede di Confartigianato Lombardia. A illustrare l'iniziativa il presidente di Confartigianato Giorgio Merletti, il vicepresidente confederale Marco Granelli, presidente di Confartigianato Forexpo, il segretario generale di Confartigianato Cesare Fumagalli. Un impegno eccezionale, quello messo in campo da Confartigianato, che il presidente Merletti sottolinea con orgoglio. Avere il coraggio di mettere in vetina quelle che sono delle piccole cose, ma sono delle grandi eccellenze di questo mondo. Quando vendiamo quelle cose vendiamo un pezzo del nostro paese, non dobbiamo dimenticarci, dobbiamo esserne tutti quanti orgogliosi. Da aprile a novembre, quindi, Confartigianato sarà protagonista di Expo sia all'interno di Padiglione Italia, dove tra l'altro il 16 giugno si svolgerà l'Assemblea annuale della Confederazione, sia nel foriexpo con un calendario di mille eventi organizzati all'Italian Makers Village, che ospiterà a rotazione settimanale 800 imprese artigiane, 27 paesi stranieri e 12 delegazioni commerciali, eventi, mostre, incontri e percorsi tematici dedicati all'eccellenza artigiana nei settori della moda, dell'alimentazione, del design, dell'arte e della meccanica. Il villaggio si articola in 27 spazi espositivi, 10 temporari shop, 6 aree esterne per lo street food, una sede polifunzionale per incontri, conferenze e convegni. Ampio spazio all'alimentazione con il Food Village, realizzato in collaborazione con Alta Qualità, partner di Confartigianato. Ad amplificare le iniziative di Confartigianato ci penserà Radio Italia, emittente ufficiale dell'Italian Makers Village, con una campagna di comunicazione e con attività di animazione e di intrattenimento. Insomma, una grande sfida degna dell'esposizione universale, che Confartigianato vuole vincere in nome dell'artigianato e delle piccole imprese italiane. Vogliamo lanciare un segnale di ottimismo, di speranza a tutti i nostri imprenditori, ci vogliamo fare conoscere perché siamo sicuri che il nostro modello è un modello vincente e che può essere, può diventare e deve diventare una sorta di rinascimento italiano, quindi che parte da noi. E lo slogan che vorrei lanciare per questo evento è uno slogan che potrebbe essere declinato così, piccolo è bello ma insieme è meglio. Dallo scorso dicembre è in vigore il nuovo regolamento europeo sull'etichettatura alimentare. Dopo le polemiche sull'armonizzazione delle norme da parte del Ministero, Confartigianato torna sull'argomento per chiedere che venga nuovamente indicato lo stabilimento di produzione sulla confezione dei prodotti, lasciando ai consumatori la possibilità di scegliere consapevolmente cosa mangiare. Oggi infatti è obbligatorio indicare la sede legale con cui è commercializzato il prodotto o l'importatore, nel caso sia un alimento prodotto fuori dall'Europa. La norma non piace agli artigiani italiani, che la considerano un assist alle multinazionali e una limitazione alla libertà di scelta dei consumatori, oltre che un danno per le tante eccellenze territoriali dell'alimentare italiano. Dal Ministero del Lavoro arriva l'impegno ad affrontare gli aspetti del welfare che stanno a cuore alle imprenditrici artigiane. Lo ha annunciato la sottosegretaria al di Castero, Teresa Bellanova, alla giunta esecutiva di Donne Impresa Confartigianato. Il servizio di Lorenza Manessi. Maternità, conciliazione lavoro-famiglia, pari opportunità. Per le imprenditrici artigiane sono nodi mai sciolti, aspetti critici sui quali sollecitano risposte dal Governo per superare le disparità di trattamento rispetto alle lavoratrici dipendenti e colmare le inefficienze dei servizi pubblici. E ora, su questi temi si profila una proficua occasione di dialogo con il Ministero del Lavoro. Ad aprire il confronto è stata Donne Impresa Confartigianato che il 19 gennaio ha incontrato la sottosegretaria al lavoro, Teresa Bellanova, intervenuta alla riunione della giunta esecutiva delle imprenditrici. Un confronto a tutto campo, all'insegna della concretezza e della collaborazione che ha permesso di mettere sul tavolo le proposte delle titolari d'impresa. Nel Jobs Act per la prima volta si fa riferimento alla conciliazione, quindi mai come in questo momento le nostre richieste dovevano essere focalizzate sulla conciliazione. Abbiamo richiesto i voucher, voucher non soltanto declinati per il babysitting ma declinati anche sulla cura degli anziani. Abbiamo chiesto dei voucher formativi per le persone che mettiamo in azienda per una sostituzione in maternità, cioè fare un'integrazione alla legge 53 dove l'articolo 9 non ha mai trovato risposta proprio per il fatto dell'allontanamento dell'imprenditrice dall'azienda e come ben sappiamo le nostre imprese sono praticamente quasi tutte individuali quindi diventa difficile, vuol dire chiudere l'azienda. Abbiamo chiesto un occhio di riguardo per quanto riguarda degli sgravi contributivi, sempre per queste persone che possono entrare in azienda per un avvicinamento, un aiuto sempre nel caso di cura declinata a 360 gradi. Le imprenditrici di Confartigianato hanno incassato l'impegno della sottosegretaria Bellanova a dare risposte alle richieste di donna impresa a partire dall'attuazione del Jobs Act. Il mercato del lavoro si è modificato e quindi noi abbiamo bisogno di tenere in conto sia il lavoro dipendente ma il lavoro autonomo per spesso ha dei redditi che sono simili a quelli del lavoro dipendente se non inferiori. E' quindi evidente che nell'immaginare le politiche di conciliazione a partire dal decreto attuativo che scriveremo nelle prossime settimane noi dobbiamo tenere in conto il bisogno di questo mondo del lavoro. Su questo io ho chiesto alle imprenditrici artigiane di collaborare attivamente sia attraverso il Comitato delle Pari Opportunità sia nei rapporti formali e informali con il mio Ministero per scrivere insieme un pezzo della delega e per incominciare ad immaginare delle linee politiche sulle quali noi dobbiamo riavviare il confronto. L'Unione Europea continua la propria lotta alle importazioni illegali di legname. L'Italia ha recepito il regolamento europeo con un decreto datato fine ottobre, distinguendo tra operatori e commercianti. Nella prima categoria rientra chi produce o importa legname, nella seconda chi compra o rivende prodotti in legno, come gli imballaggi ad esempio. Se gli operatori avranno l'obbligo di dimostrare il rispetto delle leggi forestali dei paesi dove hanno raccolto il legname, i commercianti dovranno conservare la documentazione per 5 anni, così da permettere la completa tracciatura dei prodotti. Roma, 29 gennaio. Le novità del Jobs Act. Confartigianato organizza presso la sede confederale un seminario sulla riforma del mercato del lavoro, collegamento in diretta streaming con le sedi di Confartigianato in tutta Italia. In chiusura è il momento di vedere insieme a voi le rilevazioni dell'ufficio studi di Confartigianato, nella nostra rubrica il numero della settimana. 1.503.515 è il numero degli occupati nelle piccole imprese manifatturiere italiane fino a 20 addetti, un primato assoluto in Europa. Complimenti. L'appuntamento è per lunedì prossimo, sempre alla stessa ora, sempre sul sito di Confartigianato. Buona settimana e buon lavoro. Grazie a tutti.